Obiettivamente non è successo niente di più e niente di meno di quello che ci aspettavamo e questo torneo è servito più che altro per far capire ai nuovi che cos'è il beach handball e per mettere i minutaggi nelle gambe. Queste partite sono stati i nostri allenamenti, i ragazzi set dopo set hanno sempre fatto un piccolo passo avanti ora abbiamo altri due giorni per poter fare un po' di allenamenti fra di noi e sistemare qualcosa che non è andata ma diciamo che sono soddisfatto di questo gruppo nuovo che ho a disposizione. Sicuramente è una squadra che avrà anche delle integrazioni. Sì, ci sono sicuramente dei personaggi, dei ragazzi nuovi che entreranno nel secondo stage questo è un gruppo giovane, si può lavorare veramente tanto bene sto cercando proprio di creare un gruppo che possa durare negli anni sperando che tutto vada bene e che ci sia parecchio lavoro da fare durante questi anni. Grazie. Grazie.